Abbiamo fatto una buona partita contro Alessandria ma questo non incide sul mercato perché a livello proprio numerico avevamo bisogno sicuramente di qualcuno che ci venisse a dare una mano e siamo molto contenti di questo innanzitutto. Spero che i 9 arrivati vengano con lo spirito giusto perché questo gruppo ha dimostrato di mettere tutti in condizione di far bene a patto che uno si presenti con l'atteggiamento giusto e la voglia di fare. Quindi tutti i 9 arrivati sono i benvenuti e spero che ci daranno una mano perché questo campionato sarà difficile. Per quanto riguarda Gaetano come me, come Mimmo, l'anno scorso non è che c'era meno concorrenza, anzi non va vista in quest'ottica assolutamente i 9 arrivi ma solo in un'ottica di crescita per tutti. Tanto le partite sono 42 e ci sarà spazio per tutti. A noi cambia poco perché alla fine sempre a tre siamo quindi numericamente siamo gli stessi anche come posizione. Magari giocando con i tre difensori dietro abbiamo qualche libertà in più a livello offensivo, parlo soprattutto delle mezzali. Con il 4 del 3 magari devono più stare attenti a livello di equilibrio però non sono cambiamenti che incidono penso nelle prestazioni nostre. No, no, il clima lo sentiamo perché innanzitutto c'è rispetto però appunto perché è una partita ufficiale ce la giochiamo alla pari, non esiste Serie A e Serie B, penso che lo sappiano anche loro. E già che ci siamo vogliamo vincere assolutamente perché quando si scende in campo si vuole sempre vincere e soprattutto sarebbe il modo migliore per iniziare la stagione. Siamo proiettati bene tutto sul Genoa e poi sul Catania quindi il discorso 22-21 sarebbero tutti alibi, a noi non interessano. Dopo sono gestioni anche extra-calcistiche che a noi non ci toccano proprio. Però il campionato è difficile come tutti gli anni, non è che quest'anno si sia inventato qualcosa di diverso, le squadre forti ci sono sempre state e quest'anno sarà ancora così. Però non vedo niente di particolare, bisogna concentrarsi su di noi, che è la prima cosa e basta. Guardare in casa nostra, lavorare forte e dopo tutto il resto sono chiacchiere.